Musica Ciao, non ho capito per quale misterioso motivo ma ogni volta che io decido di fare un video o viene a piovere o sa nuvola o non si sa quindi perdonate la luce ma tanto sfoglieremo il catalogo del libro Shea sulle computer quindi mi si vedrà poco allora, album numero 8, valido fino al 4 luglio 2016 ci sono tantissime novità, set, set vacanze, set da spiaggia, novità make up quindi un album davvero da prendere al volo e iniziamo a sfogliarlo che così non mi si vede più tanto allora eccoci, questo è l'album numero 8, il da valido fino al 4 luglio 2016 vediamo subito, eccole qui, il primo set che è l'Essere un vegetale, ride ferme te lo chiamano set pelle rimpolpata e comprende 24,95 il trattamento a giorno e il filler occhio e labbra volendo, sempre a stesso prezzo, c'è sempre il filler occhio e labbra e poi la crema e il trattamento con protezione 20 vi mostro ora la novità, set pedalina serum digital perché è la maschera in tessuto ed è unica delle maschere che si applicano sul viso, si tiene in posa ed è 15 minuti, esatto, 15 minuti c'è anche scritto oltretutto rende la pelle più luminosa, più compatta, più ravvivata e sembra che il prezzo sia un po' caro per una maschera in tessuto ma è piena, piena, piena di attivi che vanno a potenziare il trattamento altro set in offerta, questo è della linea read e lifting 27,95, il trattamento modellante giorno e il contorno occhi effetto lifting oppure il set pelle luminosa con a 22,95 il trattamento levigante giorno, sempre e il ron e contorno occhi ora una novità perché della linea rich cream abbiamo il trattamento rigenerante antimacchie con protezione 20 c'era già un trattamento antimacchie ma con la protezione solare quindi perfetto anche da applicare ed è nella stagione calda è una grande novità e soprattutto è molto comodo perché così si ha sempre l'azione ed è per tutto l'anno partiamo ora con i set solari che danno in omaggio la pochette allora questo è una pochettina anche molto carina che è, ecco, da qui in un tessuto resistente una chiusura zip e all'interno ha anche un vano porta pennelli oppure porta pennelli oppure porta piccoli oggetti in modo da non perdere si ha in omaggio acquistando un di questi set quindi queste 17,95 comprendono il dopo sole ed il latte spray con protezione 15 oppure con protezione 20 oppure ed è questo che è il trattamento di un'antità con protezione 30 oppure il latte spray ed è con protezione 30 gli altri set invece questi sono per i due settimane al sole ed danno in omaggio la sacca weekend che davvero è molto molto capiente eccola qua e si ha con 24,95 il latte spray protezione 15 e il latte protezione 20 più il dopo sole oppure il latte spray protezione 15 il trattamento di un'antità protezione 30 e il dopo sole gli altri prodotti invece che danno in omaggio ecco, ce l'ho fatta la sacca ecco, li sono sempre qua ed è 29,95 il latte spray protezione 15 il latte spray protezione 30 e il dopo sole oppure il 29,95 il latte spray questo protezione 30 il comfort protezione 50 più e il dopo sole iniziamo e faccio vedere che con i profumi si ha il kit da viaggio il kit da viaggio comprende eccola qua una piccola truscola che è anche molto carina poi il latte colpo profumato da 50 ml il gel doccia da 50 ml e il de parfum da 7,5 quindi perfetto da portare in vacanza si ha a 1,50 euro acquistando il profumo eccola qua come un evidence questo quindi acquistando il profumo aggiungiamo il codice 1,50 euro in più e si ha il set da viaggio ovviamente anche appiati i profumi e quelli qua quindi crack not the more e selixir parpore vi faccio vedere un altro perché questa edizione limitata di profumi è il pop exotic ed è de parfum da 75 ml edizione limitata estiva perché è un profumo molto fresco ed è quindi direi che è proprio la fragranza naturale ed estiva da prendere al volo vi mostro ora una novità make up questo è il nuovo mascara si chiama Vertige Longue infatti è un mascara allungante questo micro scovolino permette di prendere tutte e tutte le ciglia anche quelle più sottili quelli agli angoli quindi non andiamo a macchiaire la palpebra non ci sporchiamo e prende tutte le ciglia allungandole ed è disponibile nei colori nero blu oppure marrone altra novità eccole le salviettine opacizzanti zero difetti questa è una confezione da 50 e sono perfette per l'estate perché andiamo ad applicarle sulla pelle durante il giorno soprattutto nella zona T ed è oltre ad assorbire il sebo in eccesso quindi a rendere la zona subito più opaca vanno anche a un effetto proprio quasi cipriato quindi sono ci sono già di tante marche ma sono davvero valide e poi in questa piccola confezione è perfetta anche da mettere in borsa o in tasca sono molto comode ecco qui un'altra novità questo è lo smalto SOS ritocchi è più facile spiegarlo piuttosto che leggerlo in pratica quando lo smalto è sbeccato lo smalto delle unghie si va ad applicare questo sopra prima in senso orizzontale poi in verticale poi ancora in orizzontale cioè quindi proprio ed è andiamo a riempire nei vari sensi della sbeccatura e vediamo che lo smalto viene subito come fa fa una specie di azione che lo scioglie leggermente e lo trasporta verso la zona dove manca e quindi lo va a ricoprire e a rioniformare vediamo ora i set per i capelli abbiamo il set shampoo stimolante 7 euro il 2 shampoo oppure 5 euro i 2 shampoo questi per i riflessi dorati i riflessi d'argento o i riflessi cristane 5 euro sempre il set da 2 shampoo è ad esempio questo delicato la Mammellis oppure quello delicato è adatto per tutti i giorni lo shampoo luminosità lo shampoo 3 in 1 quello è protezione di luminosità quello antiforfora il volumizzante il rivitalizzante e eccoli qui sempre il lisciante ricci definiti il pulificante il nutriente tutti i set di shampoo e eccolo qua infatti l'ultimo e quello anche riparatore 2 shampoo da 300 ml quindi anche belli grandi a 5 euro e questo era tutto il catalogo eccoci allora dopo il video ho preso l'acqua e credo che si veda comunque era questo era tutto il catalogo come sempre qui sotto c'è il link per contattarvi per informazioni per gli ordini e c'è sempre anche il link per scaricare il formato pdf e il catalogo così potete tranquillamente guardarlo sul vostro computer ed non mi resta che augurarvi buoni acquisti naturalmente perfumati con il magico tutto il mondo di brochetti ciao ciao